Adesso evoco qui al microfono Alessandra Farabegoli. Oggi prendo l'occasione di essere qui per parlare di un tema di cui ho finito per occuparmi un po' per caso, ma ne sono stata molto felice, la gestione dell'overload informativo. Perché lo faccio? Perché quest'anno per me è un anno di decennali importanti, abbiamo iniziato l'anno festeggiando il fatto che fossero dieci anni di freelance camp e abbiamo fatto anche il bellissimo libro che avrete fra le mani e oltre ad essere dieci anni dal freelance camp sono anche dieci anni di vita di digital update, un progetto fondamentale per la mia vita professionale, a cui ho dato vita insieme a Gianluca Diegoli, che ci ha accompagnato in tutti questi anni per fare formazione e diffondere cultura digitale e che si è intrecciato e si intreccia molto spesso con il freelance camp. Ma non solo, perché sono anche dieci anni che ho scritto il mio primo libro. E se qualcuno di voi ha scritto un libro, conoscete l'emozione fortissima di ricevere dall'editore la prima bozza della copertina. Una cosa proprio, mi vengono i brividi ancora a ricordarmelo. E' questo libricino qui, che probabilmente avete preso al banco, se non l'avete preso ce ne ha un mucchio. Ce ne ha un mucchio perché a un certo punto tutti i libri hanno un ciclo di vita e dopo qualche anno, a prescindere dalle vendite, se proprio non sono i best seller, tipo quelli che io non scriverò mai, l'editore li manda al macero, manda al macero le copie invendute. E quindi io a un certo punto ho capito che stavano andando al macero le copie invendute, ho detto dai, invece che mandarli al macero, mandamene un po'. E loro hanno detto no, te ne vendo un po'. Io ho detto vabbè te ne compro un po' e mi sono comprata a un prezzo proprio da carta da macero alcune casse di libri, pensando di distribuirli un tipo biglietto da visita. In realtà ormai stanno a casa mia perché dentro ci sono un sacco di cose che fanno un po' sorridere, strumenti che non esistono più, numeri che sono stati largamente superati da tutto quello che è successo dopo. Però tutto sommato il metodo, l'approccio che suggerivo in questo libro è ancora valido e quindi mi sono detta bene, parliamo di information overload e scarichiamo un pochino la soffitta di un po' di casse di libri. No scherzo, in realtà penso davvero che ci siano ancora delle cose sensate qui dentro. Come sono arrivata, proprio apre una micro parentesi per raccontarvi anche qui un po' per caso come sono arrivata a scrivere sull'information overload. Io alla fine del 2009 avevo lasciato l'agenzia che avevo contribuito a creare, avevo guidato per quasi dieci anni e avevo iniziato a lavorare come freelance e questo poi è ciò che ha dato vita a questo evento e avevo un blog, un blog in cui scrivevo tanto e scrivevo di tantissimi argomenti perché all'epoca non mi ero ancora focalizzata e specializzata sull'email marketing, ero una generalista e quindi scrivevo di social media marketing, di search marketing, in generale di un approccio all'uso del digitale che si componeva di tanti pezzi e in realtà c'erano molte meno cose da gestire. Mi ricordo che nei primi digital update io e Gianluca in due giorni raccontavamo tutto il digital marketing e insomma, quindi capite bene che da allora poi le cose si sono moltiplicate e verticalizzate molto di più. Però scrivendo tanto avevo, penso, mi ricordo se alla fine del 2010 o alla fine del 2011 per la prima volta decisi di raccogliere i miei post più belli, più interessanti, quelli che riscuotevano più interesse, in una raccolta a cui diedi il titolo di manuale di buonsenso in rete. Non era semplicemente un copia e incolla perché io alla fine di ogni anno, mi prendevo una settimana, sceglievo quali post includere, li organizzavo per argomenti, facevo una revisione dei contenuti perché se nel frattempo qualcosa non era più attuale lo andavo a correggere, sistemare e lo confezionavo in questo ebook di, insomma, alla fine erano diventate più di cento pagine e qualcuno ha girato tantissimo ed è stata una cosa che mi ha fatto in realtà molto bene perché mi ha fatto conoscere a tante persone. Per cui, insomma, questo ebook manuale di buonsenso in rete girava tanto, l'ho pubblicato per diversi anni, penso l'ultima edizione del 2016 e a un certo punto ne parlai con Federica Dardi che lavorava come editor da Apogeo perché mi sarebbe piaciuto trasformare tutto questo in un libro vero e lei ci pensò un pochino e poi un giorno mi telefonò all'inizio del 2012 appunto e mi disse Ale vogliamo farti scrivere un libro. Io ero tutta gasata, facciamo il manuale di buonsenso in rete con un editore vero e lei mi disse no guarda però non quello, ma vorremmo farti scrivere di un tema che è il sovraccarico informativo. E dissi vabbè, insomma, se deve essere qualcos'altro, iniziamo a studiare. Ho cominciato a studiare, ad approfondire l'argomento. Diciamo che a loro piaceva un po' il mio approccio alle cose, il mio approccio alla cultura digitale e anche probabilmente il modo in cui le spiegavo e le scrivevo. E quindi da tutto questo giro un po' bizzarro è nato questo manualetto che ha avuto anche una discreta fortuna all'epoca. E qual è il tema di questo manualetto? È appunto gestire quello che è la valanga di informazioni in cui noi siamo immersi sempre di più e che è un elemento che contraddistingue gli ultimi decenni della nostra vita perché effettivamente c'è stato un'escalation tale della produzione di dati che ormai non sono i dati e i contenuti la merce rara ma assolutamente da diverso tempo ciò che è più raro e prezioso è il tempo e l'attenzione della gente. Quindi vi ho portato questo manualetto e anche una guida alle pagine da saltare, ai capitoli da saltare perché non hanno più molto senso e a quelli invece su cui forse vale ancora la pena di spendere qualche minuto per leggerli. Intanto, come poi dichiaro anche nel libro, quello che importa non sono gli strumenti. Gli strumenti li dobbiamo sapere scegliere e usare perché sono, diciamo, quelli che ci abilitano a vivere meglio ma gli strumenti cambiano, cambiano molto velocemente quindi prima di scegliere gli strumenti dobbiamo adottare un approccio e capire anche qual è il problema che vogliamo risolvere e il problema che vogliamo risolvere che è ciò di cui parlo nel capitolo 1 dedicato all'alfabetismo digitale e nel capitolo 3 dedicato a una dieta informativa sana è il fatto che noi abbiamo un approccio alle cose all'informazione che è viziato da tutta la nostra storia in cui l'informazione e i dati erano scarsi al contrario di oggi e questo è molto simile all'approccio che noi abbiamo con il cibo noi, diciamo, come specie abbiamo una lunga storia alle nostre spalle in cui non era scontato aver da mangiare quindi quando troviamo qualcosa da mangiare tendiamo a mangiare il più possibile perché i nostri avi, progenitori, cacciatori, raccoglitori non davano per scontato di poter avere tutti i giorni qualcosa da mettere nello stomaco quindi facciamo fatica ad evitare di abbuffarci qualunque cosa abbiamo davanti e questo genera tutti i problemi alimentari gran parte dei problemi alimentari diciamo, di salute di cui soffriamo oggi nei paesi alto tenore di vita con l'informazione è un po' la stessa cosa perché, diciamo, io ricordo sono una delle più vecchie nella stanza e per dire, quando io facevo la tesi e cercavo gli articoli per la tesi dovevo andare in biblioteca chiedere il permesso alla bibliotecaria sperare di trovare la rivista fare le fotocopie insomma, tutta una lunga trafila adesso, voglio dire, il problema è l'opposto è filtrare fra le quantità enorme di informazioni e di fonti a cui potremmo accedere e quindi questa abbondanza enorme fa sì che noi in qualche modo vorremmo stare al passo con tutto anche perché se non stiamo al passo con tutto dal punto di vista professionale ad esempio temiamo di non riuscire a continuare a vendere i nostri servizi temiamo di non riuscire a stare sul pezzo sulle tendenze nuove però, insomma se iniziamo a dedicare tanto tempo a leggere aggiornare informarci e andiamo sempre dietro la mano a seguire di link in link non ci resta più niente nessun tempo per lavorare per fare il nostro lavoro non solo per fare il nostro lavoro ma anche per vivere il resto della nostra vita e anche ogni tanto per dormire e per riposarci che sono tutte attività fondamentali senza le quali non funzioniamo quindi io suggerisco un approccio di insomma darsi farsene una ragione che non riusciremo mai a fare neanche un millesimo di quello che ci piacerebbe fare quindi scegliamo e costruiamo una dieta varia ed equilibrata fatta di ingredienti regolari quello che insomma ci deve più o meno sempre essere che per alcuni possono essere le notizie del giorno e per altri qualunque altra cosa gli ingredienti le informazioni che ci servono in questo momento perché stiamo lavorando su un determinato progetto perché abbiamo un cliente importante del cui settore vogliamo mantenerci aggiornati e poi un po' di extra per condire e per mantenerci aperti alla serendipity e all'incontro di persone lontane da noi di idee diverse dalle nostre una cosa molto importante del concetto di dieta della metafora della dieta è che la dieta la dieta giusta per ciascuna e ciascuna di noi non è sempre la stessa nel corso della nostra vita io alcune cose adesso mi danno fastidio dieci anni fa le mangiavo senza nessun problema quindi cambiamo noi cambiano le cose che facciamo cambiano i nostri stili di vita e quindi si deve adattare deve evolversi la nostra dieta e anche la nostra dieta informativa che magari adesso è fatta di alcune cose che ci sembrano immancabili fra qualche anno potremmo anche pensare che queste cose non sono poi indispensabili che sappiamo già tutto di un certo argomento e quindi non vale la pena di continuare a leggere mille newsletter su quel tema lì che abbiamo che per oggi ci fa stare male leggere delle informazioni di attualità e quindi per un po' di tempo spegniamo quel canale oppure che magari una persona a cui eravamo molto legati e di cui volevamo sapere ogni singola mossa ormai ci ha un po' rotto le scatole e quindi la mettiamo in muto e serenamente smettiamo di leggere i suoi post su Facebook quindi questa metafora della dieta mi sembra che sia tuttora un buon descrittore di come potremmo avvicinarci diciamo al consumo di informazioni il capitolo sulla posta elettronica a parte le videate delle varie dei vari gmail che probabilmente sono cambiate e in cui non vi riconoscerete più però contiene tuttora dei principi di cui io sono molto convinta cioè che la posta non è un sistema per gestire le discussioni molti a molti per quello esistono dei sistemi molto migliori non è una to do list perché scriverci le cose che dobbiamo fare è enormemente dispersivo noi la lista di cose da fare la dovremmo avere su uno strumento apposta o su un foglio di carta o un quaderno apposta ma non sicuramente nella inbox e non è nemmeno la memoria storica e l'archivio del nostro lavoro quello lo dobbiamo ottenere da qualche altra parte fatto questo la cosa che mi dà più una delle cose che mi danno più felicità è inbox zero svuotare la inbox e a volte lo faccio in maniera drastica vado nel tab promozioni guardo l'ultima videata gli ultimi 40 messaggi che mi sono arrivati ne leggo 2-3 e poi tutto il resto seleziona tutto e archivia perché perché sì insomma non è che mi pagano per leggere le newsletter a volte alcuni clienti mi pagano per leggere le loro newsletter va bene quelle sono in una cartella a parte ma nel tab promotion con tutto il mio amore per le newsletter che sono fantastiche però insomma anche no e questo è quello che dico anche ai miei clienti fra l'altro gli dico non è che non aspettatevi che gli iscritti della vostra newsletter non aspettino non aspettino altro che di riceverla ecco il cavolo cioè fatevene una ragione ogni tanto qualcuno si disiscriverà anzi tutti i giorni qualcuno si disiscriverà e più di metà delle persone a cui scrivete non vi aprirà nemmeno perché get a life insomma quindi inbox zero resta un metodo molto importante e consigliabile vedo chiara che annuisce l'altra cosa che mi sento di risottolineare oggi non tenete la posta sempre aperta perché quando vi dovete concentrare vedere anche con la coda dell'occhio che il tab su cui è aperto gmail si modifica c'è un numerino perché è arrivato qualche messaggio nuovo rompe il flusso e rompe l'attenzione il capitolo sui feed rss mi dispiace mi piange il cuore funzionano esistono se volete sapere che cosa sono c'è scritto che cosa sono però una meravigliosa idea il segreto meglio nascosto della internet anche perché ecco no perché dico ormai i feed rss perché diciamo dieci anni fa i blog erano il posto dove mettevamo le novità oggi molto spesso le novità magari le scriviamo nelle newsletter perché le scriviamo nelle newsletter prima ancora o invece che metterle in un blog perché ormai quando le persone aprono internet difficilmente vanno sui blog aprono il loro feed che sia quello di linkedin che sia quello di facebook o whatever oppure guardano le newsletter che gli sono arrivati per restare aggiornati e diciamo è molto più un push delle novità che non un me le vado a cercare da una parte dall'altra e quindi alla fin fine fra l'altro una cosa che scrivevo a suo tempo che le newsletter dove la scrivevo non mi ricordo ecco qui nella posta nel capitolo dedicato alla posta definivo le newsletter fuori pasto del nostro regime informativo quotidiano perché dicevo sì io quasi tutto lo leggo attraverso i feed rss però ci sono delle newsletter che insomma a cui non posso rinunciare ma era il 2012 oggi diciamo è il contrario oggi molto delle notizie dei contenuti importanti li leggiamo nella posta elettronica perché scegliamo di riceverli ogni giorno e ci arrivano a casa e ogni tanto se qualcuno proprio non ha una newsletter andiamo a vedere nel suo blog o nel suo sito se ha scritto qualcosa di nuovo i social network che sono diciamo causa di disturbi interruzioni notifiche qui veramente cioè saltate le cose insomma si parla di social network si parla tanto di twitter all'inizio del libro cito dei dati su quante informazioni vengono pubblicate mettendo il numero di foto postate ogni giorno su flicker quindi insomma gli strumenti l'equilibrio non esisteva ancora non usavamo ancora così tanto instagram non so neanche se ci fosse c'era instagram nel 2012 no c'era ma non esisteva certo flicker c'è ancora le foto del freelance camp sono su flicker la cosa su cui a cui serve oggi flicker è avere dei bei repository di immagini e tanto che noi continuiamo a pagare flicker per tenerci dentro gli album del freelance camp ma nessuno oggi pubblicherebbe la foto del giorno su flicker detto questo insomma quello che scrivevo all'epoca sui social network di dieci anni fa grosso modo è valido uno mantenete una rete vivibile non dovete seguire tutti non siete obbligati io resto una di quelle che dicono non siete obbligati ad accettare tutte le richieste di contatto su linkedin io ricevo ogni giorno tantissime richieste di contatto io non le accetto tutte perché non è il mio lavoro io non sono la frontwoman commerciale della mia agenzia a palavra quello è Marco Ziero che tutti i giorni sta su linkedin su flicker ci mancherebbe scusa Marco sta su linkedin pubblica degli ottimi contenuti va a vedersi diciamo i profili di tutte le persone che commentano o reagiscono ai suoi post chiede il contatto accetta tutte le richieste di contatto però lui è l'uomo vendite dell'agenzia e fa in maniera eccellente il suo lavoro io sono la grande guru che se la mena e quindi però quando qualcuno che non conosco mi chiede il contatto su linkedin se ha la cortesia di mettere un messaggio a corredo della sua richiesta gli rispondo guarda la mia policy a che mi collego su linkedin alle persone con cui effettivamente lavoro o che conosco per altre cose puoi seguire i post che scrivo in tanti modi ti ringrazio ma adesso no se non mettono neanche il messaggio ignoro perché le mie giornate sono fatte di 24 ore e 7 ore le devo dormire e altra cosa che continuo a sottolineare e a ribadire le notifiche sono il male spegnetele tutte tenete acceso solo il telefono e gli sms che tanto li usano solo i parenti nei casi gravi e per il resto silenziate tutti i gruppi whatsapp tutti e tutti il resto salvare e ritrovare i link utili non ho tempo di leggerla adesso sono tutte cose di cui scrivo parlando di strumenti che veramente non esistono più e su questi è tutto è tutto superato se volete sapere come gestire le informazioni catalogarle ritrovare contenuti davvero che vi servono Marco Brambilla ha fatto un corso strepitoso sul knowledge management ha fatto anche delle lezioni molto belle l'anno scorso alla scuola digital update e le persone che c'erano annuiscono per confermarlo ecco diciamo che l'upgrade di questi capitoli è il corso di Marco che è molto più bravo e ordinato e costante di me io gli ho dato su scusate quando ho bisogno di qualche contenuto ricerco su Google e basta ho smesso di archiviarmi le cose note documenti tranne le cose che scrivo io o i documenti di cui ho bisogno ecco questi diciamo riesco a gestirli con un'organizzazione abbastanza draconiana dei file system sia su Dropbox sia su Drive le persone che lavorano con me sanno che ogni tanto su Slack chatto dico ma dove è stata messa questa roba doveva stare in questa cartella invece che in quest'altra perché tenere un po' di ordine nel file system è sanità mentale una delle cose una delle cartelle che io ho sempre è old archivio progetti vecchi e ho un appuntamento ricorrente con me stessa nella mia to-do list ogni sei mesi la roba vecchia la metto nelle cartelle non guardarci più perché se abbiamo troppe cartelle poi non riusciamo più a capire niente un principio che mi sento di ribadire oggi è che quando organizzate le cose i file system per cartelle non andate troppo in là con la gerarchia di cartelle due o tre al massimo cioè dovete avere un grande contenitore per le robe di lavoro un grande contenitore per le robe personali e dentro diciamo poche sotto cartelle dentro a cui c'è al massimo un terzo livello di organizzazione se no passate più tempo a salire e scendere le scale del vostro file system che non a trovare i documenti fra l'altro oggi tutti i sistemi operativi hanno dei sistemi di ricerca interna quindi cerco qualcosa spotlight e via non sì io un pochino di cartelle le faccio perché così però insomma c'è la ricerca c'è la ricerca capitolo sul lavoro di gruppo invece Yammer anche qui archeologia robe comprate adesso c'è tutt'altro noi ad esempio usiamo Slack i giovani usano Discord tutte cose bellissime l'unica cosa che risottolineo forte è la posta non è il sistema per lavorare in gruppo l'ho detto anche nel capitolo sulla posta elettronica ma per gestire la condivisione di informazioni e di scambi all'interno di un gruppo di lavoro ci sono sistemi migliori organizzabili per trade e per cartelle anche qui attenzione perché visto che i sistemi tipo Slack sono dei generatori di notifiche staccate le notifiche non è detto che dobbiate sentire tutte le notifiche in tempo reale altra cosa è che ci sono le informazioni che ci dobbiamo trasmettere in diretta su Slack e dobbiamo discutere e per queste vanno benissimo i sistemi diciamo di condivisione e di lavoro di gruppo poi ci sono gli scambi ufficiali e gli stati di avanzamento lavori e le richieste formali a cui vogliamo avere una risposta ad esempio che coinvolgono nel loop i clienti per quelli c'è la posta elettronica che invece insomma è molto più permanente molto più ricercabile molto più ufficiale ultimissimo capitolo che fa parte sempre di tutta la grande quantità di informazioni che vogliamo gestire quello dedicato alle password perché tutto ciò si basa sul fatto di gestirsi bene i propri account non farseli bucare non farci entrare nessun altro e quindi se non l'avete ancora fatto prendetevi un portachiavi elettronico un sistema di gestione password e mettete a budget una mezza giornata una giornata per metterci dentro tutte le vostre password e magari generare delle password sicure che ci penserà il vostro portachiavi a utilizzare insomma non usate le password solite quelle tutte uguali quelle facili da individuare quelle corte soprattutto se lavorate in gruppo soprattutto se lavorate in azienda perché da tutto questo dipende la sicurezza e la continuità del vostro lavoro fra l'altro siete anche tenuti a farlo a norma di GDPR quindi insomma fatelo fatelo subito ultimissima cosa però insomma a un certo punto dobbiamo prendere atto che la paura la FOMO la fear of missing out è veramente un veleno dobbiamo liberarcene disintossicarcene e iniziare a staccare ogni tanto magari a intermittenza anche le fonti di informazione che ci sembravano essenziali scopriremo con grande piacere che possiamo sopravvivere anche all'assenza di informazioni su internet e da internet quindi proviamo a sostituire ogni tanto alla FOMO la IOMO la joy of missing out vi ringrazio